Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Sono questi i risultati dei match sportivi affrontati dalle squadre locali nell'ultimo fine settimana. Partendo dal calcio, sabato la Vispesero ha potuto esultare grazie alla vittoria allo Stadio Benelli contro il Modena per 1-0. Decisiva la rete di Manuel Di Paola. Venivamo comunque da quattro sconfitte consecutive. Il momento non era dei migliori. Oggi affrontavamo la diciottesima finale che abbiamo da qui alla fine. Siamo molto contenti. Io sento di fare i complimenti alla squadra e all'allenatore perché hanno fatto una prova di grande carattere. In una settimana dove non era semplice lavorare, vuoi per il calcio mercato, vuoi per la situazione dove ci siamo trovati. Non ne siamo usciti, siamo con i piedi per terra. Ripeto, oggi abbiamo affrontato la seconda squadra in classifica. Penso che i ragazzi hanno dimostrato una prova di grande carattere e siamo riusciti a perfurare la miglior difesa del campionato e siamo riusciti a non subire gol. Pareggia 1-1 invece l'Alma Juventus Pano, che torna a casa dall'incontro contro il Padova con un punto in più in classifica. E' una partita molto difficile per noi. Eravamo passati in vantaggio. E' chiaro poi la qualità del Padova si è fatta anche sentire in campo. Però credo che i ragazzi anche oggi abbiano fatto una grande prestazione. E quindi, niente, il percorso è questo. Dobbiamo continuare su questa strada. Bene davanti Ferrara che ha servito un bellissimo assist a Barbuti. Sì, sì. Penso che tutti hanno fatto bene oggi. Abbiamo avuto un po' di problemini, due aciacchi. Purtroppo abbiamo dovuto fare due cambi per infortunio. Speriamo non siano niente di grave. Spazio anche al basket e alla Carpegna Prosciutto Pesaro, che dopo aver lottato per 40 minuti, nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A, non riesce a conquistare i due punti della vittoria. Il match della Vitrifrigo Arena va alla Humana Reier Venezia, con il risultato finale di 65 a 78. Loro sono molto più freschi rispetto all'inizio dell'anno perché senza coppe, con panchina molto lunga, possono giocare con una intensità straordinaria tutti quanti 40 minuti. Ma non possono essere scuse questo perché onestamente io non sono stato soddisfatto come abbiamo fatto primo tempo. Siamo stati più due facendo tantissimi errori. Senza fluidità il nostro attacco che quest'anno faceva differenza, tante partite oggi non abbiamo fatto. Tirando malissimo, i percentuali sono stati bassi per 2, per 3 sotto 20%. È difficile vincere la partita contro un avversario forte come Venezia. 60-50, cosa è successo? Abbiamo subito in un break loro in 10-0, in un minuto. Onestamente siamo fermati completamente, non solo in difesa, in attacco uguale, non girava la pala, tiri aperti non sono andati dentro e dopo qualche forzatura, come insolito, quando non va a tiro da 3. E tutto è andato male. Posso solo fare complimenti loro per la vittoria e tutto è qua. A livello regionale invece grande gioia per la Lube Volley. La squadra di Civitanova ha conquistato ieri la sua settima Coppa Italia, battendo il Perugia alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.